Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un saggio appena pubblicato dal Centro di Studi Medievali di Spoleto, che si intitola Rotundi Squadrata Mutare, questioni francescane dalle origini ai fioretti di Daniele Solvi, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite, al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante saggio. Prego professore, a lei. Grazie, grazie di questa bella opportunità. Il volume raccoglie una serie di scritti che già sono comparsi in tante sedi diverse nell'arco di 30 anni, però con una linea che anche a distanza di 30 anni, anzi, forse meglio ancora, a distanza di tempo, mi pareva abbastanza unitaria. Sono due parti. Una prima parte raccoglie una serie di interventi più brevi in cui si o si interloquisce con studiosi, studiosi anche di grande rinomanza, come Chiara Furgoni, che sappiamo tutti ci ha lasciato poche settimane fa, o Jacques Dalaran, per fare solo pochi esempi, insomma. Quindi si interloquisce con questi studiosi nella forma della recensione o della discussione oppure si fanno degli status questionis in cui un po' si riepilogano i punti salienti del dibattito perché il francescanesimo e in particolare Francesco, le fonti francescane, gli scritti di Francesco e di Chiara sono dei temi che producono pubblicazioni a getto continuo. Penso che non ci sia nessun altro argomento o personaggio, quantomeno, della storia medievale che goda, nel bene o nel male, di una tale quantità di pubblicazioni ne escono praticamente a livello giornaliero. Qui, insomma, anche ogni tanto rifare il punto, tirare un po' le fila e chiederci a che punto siamo, penso che possa essere utile. E questa prima parte è una prima parte forse un po' un po' anacronistica, se vogliamo. Potrebbe essere quantomeno intesa così, nel senso che oggi a livello universitario la recensione è un genere in caduta libera perché non vale nulla nei concorsi mentre invece io penso che questo sia un peccato perché la recensione è un'occasione di, se non è una semplice sintesi del libro che si legge ma è veramente un entrare in discussione, è uno dei canali attraverso cui viaggia il dibattito scientifico e tra l'altro la quantità di pubblicazioni che escono rende sempre più difficile leggere le cose degli altri mentre invece la recensione un pochino ti costringe a fare il punto, a fermarti a non guardare solo quello che tu come studioso hai come curiosità o hai in quel momento sul tavolo di lavoro ma sbirciare un po' anche sul tavolo altrui e vedere anche come lavorano i colleghi e in questo modo c'è sempre anche da imparare quindi questa è una prima parte a cui tengo proprio perché oggi è un po' in sofferenza questa componente della ricerca che invece penso sia fondamentale quello di leggersi tra colleghi, di discutere anche perché significa creare un po' quella repubblica delle lettere che esisteva una volta in cui insomma ci si riconosce un po' tutti come collaboratori di un progetto comune non è che Daniele Solvi porta avanti i suoi studi e basta concorre in un qualche modo e come si gli altri ad uno sforzo collettivo naturalmente ci vuole da parte di tutti la disponibilità magari anche ad accapigliarsi bonariamente nella storia degli studi francescani ci sono state delle discussioni anche al vetriolo però anche la disponibilità a riconoscere i punti in comune e anche magari a ricredersi quindi senza andare avanti come dire sulla propria strada pensando di avere la verità in tasca poi su un tema così dibattuto così difficile come quello del francescanesimo è difficile che da un solo punto di vista si riesca ad avere la chiave che apre tutte le porte e poi c'è quest'altra questa seconda parte invece in cui sono raccolti gli studi su alcuni temi specifici quindi non tanto i dibattiti con i colleghi francescanisti quanto gli studi che in prima persona ho condotto cercando di mettere in luce di volta in volta l'uno o l'altro tema, l'una o l'altra fonte faccio solo qualche esempio non so, sappiamo che Francesco è sempre associato alla idea del crocifisso della cristiformità cosiddetta quindi della imitazione di Cristo e ci sono un paio di saggi che invece cercano di verificare che ruolo ha la figura di Maria nella spiritualità di Francesco quindi nei suoi scritti e poi anche nelle fonti ageografiche perché un po' è una cartina di tornasole anche per verificare quanto di questa immagine vulgata di Francesco il Francesco appunto con le stimmate il Francesco in ginocchio davanti al crocifisso quanto di questa immagine vulgata di Francesco sia in realtà anch'essa un po' un mito quando viene messa a confronto invece con le fonti quindi un punto di vista magari un po' spiazzante che penso sia salutare proprio perché riconduce alla pietra di Paragone quella che per tutti, per ogni storico deve essere la pietra di Paragone cioè la verifica sulle fonti lo studio su Francesco è difficile proprio per questo tutti i personaggi storici medievali sono difficili a maggior ragione se hanno poche fonti nel caso di Francesco le fonti sono tantissime e questo da un lato è un aiuto dall'altro è una complicazione perché naturalmente non sono concordi ma nel caso di Francesco in particolare si aggiunge questo dato in più che Francesco è anche un simbolo non è un personaggio neutro un personaggio qualsiasi quindi è difficile entrare nel campo degli studi francescani senza portarsi appresso gli occhiali precostituiti dalla cultura di massa quindi il Francesco amante della pace c'è il Francesco che parla con gli animali o che predica gli uccelli tutti questi cliché a cui siamo abituati in cui naturalmente c'è anche qualcosa di vero ma all'interno di una visione che è una visione più moderna e poi postmoderna e che va sempre riverificato sulle fonti un altro esempio di studio che si trova nella seconda parte del volume è quello del confronto tra Francesco e Chiara anche qui siamo abituati ad una una specie di diarchia una specie di dittico Francesco da un lato Chiara dall'altro messi in parallelo quasi fossero cambiando il genere l'uno la fotocopia dell'altro mentre invece se si va ad analizzare gli scritti perché di nuovo la pietra di paragone sono anzitutto le parole dei personaggi si scoprono alcune difformità quindi Chiara ha una sua personalità Francesco ha una sua personalità e l'analisi paziente dei testi contemporanei ripeto delle loro stesse opere queste cose le mette in luce quindi ritornare alle fonti è sempre buona cosa di metodo ma porta anche a dei risultati sorprendenti insomma in cui si riesce a ci si riesce a rendere conto che in fondo che la storia non è così inutile che non è già tutto dato che c'è sempre qualcosa di nuovo da dire da scoprire se ci si inoltre in queste fonti con un occhio scevro dai pregiudizi pregiudizi dico lo dico senza a mia volta giudicare pregiudizio nel senso tecnico di previsione preinterpretazione della realtà stessa cosa si può dire un altro saggio si occupa di Francesco e l'Islam chiaramente è un tema che oggi è un tema particolarmente urgente e anche qui è palese insomma come la figura del santo sia stata utilizzata utilizzata in passato addirittura per giustificare delle politiche colonialiste come sappiamo e oggi magari tutto all'opposto per farne il portabandiera del dialogo tra le religioni che è chiaramente una visione anacronistica anche qui riandare alle fonti permette di scoprire un Francesco comunque sorprendente rispetto alla sua epoca però non sorprendente nel modo in cui noi ce lo aspetteremmo non un Francesco contemporaneo un Francesco comunque pienamente medievale che con le sue categorie medievali riesce comunque a proporre un punto di vista originale tipico della sua personalità così forte rispetto non so non solo ai crociati dell'epoca ma anche ai papi dell'epoca la grande in questo per esempio la grande originalità di Francesco sta nel suo non ritenere i musulmani gente ormai perduta gente irrecuperabile sappiamo che Francesco va in Terra Santa si si ferma per diverso tempo va poi anche in Egitto e attraversa le linee crociate per raggiungere il sultano e parla col sultano e questo discende dalla sua convinzione che di non avere a che fare con membra del diavolo come si diceva all'epoca lo testimoniano le stesse fonti abbastanza affidabili contemporanee lui diceva anche quelli che ci sembrano membra del diavolo possono diventare dei bravi cristiani quindi niente è perduto non si deve gettare la spugna e anzi bisogna essere convinti che se Dio vuole potrà convertire anche loro questo però impone una forte responsabilità nell'uomo di Dio nel bir dei cioè quella di portarlo questo annuncio il suo obiettivo non è quello di convertire perché la conversione naturalmente la può nella sua ottica operare soltanto Dio però il suo obbligo è quello di di annunciare e si annuncia perché si ha fiducia che che tutto può succedere ecco che le cose non sono date una volta per tutte che il mondo non è dominato dalla semplice necessità dei rapporti di forza ma che appunto è aperto sempre all'irruzione dell'inatteso e questo è un francesco un po' comunque per noi non così consueto però non è neanche il francesco ecco anacronistico appiattito sull'idea attuale del dialogo interreligioso quindi è un po' un uno sforzo in più quello che è richiesto al al francescanista però è uno sforzo che va fatto se si vuole capire il passato per quello che era e poi dopo aver fatto questa questa fatica eventualmente farsene ispirare per il presente chi vuole però ecco sono due momenti diversi che rischiano di di sovrapporsi in alcune letture e di provocare un po' dei capitomboli interpretativi ci sarebbe da parlare per ore ma noi sappiamo di avere il limite che ci concedono gli utenti della rete se ho qualche un minuto posso aggiungere una cosa sì sì se posso ecco certo il titolo questo titolo un po' strano in latino rotundis quadrata mutare lo dico perché è divertente è il primo biografo di Francesco biografo agiografo di Francesco Tommaso da Celano che usa questa espressione e Tommaso da Celano ha scritto diverse vite di Francesco ecco mi riferivo prima al fatto che le fonti su Francesco sono innumerevoli forse anche troppe e tutte un po' diverse l'una dall'altra e lo stesso agiografo scrive più volte a più riprese nell'arco di decenni una vita di Francesco conosciamo di Tommaso da Celano la cosiddetta vita prima poi c'è una vita seconda o memoriale in desiderio anime poi c'è il trattato sui miracoli in mezzo forse c'è anche la leggenda di Chiara la leggenda corale e Tommaso al termine dell'ultima della più recente di queste sue fatiche dice non possumus quotidiano vacudere non rotundi squadrata mutare non possiamo ogni volta sfornare cose nuove non possiamo mutare in rotonde le cose quadrate è un po' uno sfogo della geografo che dice basta non mi chiedete più altre vite di Francesco perché non se ne può più e ormai quello che è scritto e scritto e non posso neanche cambiare i fatti della storia però è un po' quello che succede in un secolo almeno il primo secolo dalla morte di Francesco da 1226 ci sono legioni di frati che riscrivono continuamente questa vita di Francesco aggiungendo tagliando reinterpretando modificando l'ordine dei fatti enfatizzando ora un tema ora un altro e questa specie di fabbrica di San Pietro va avanti in maniera inesauribile apparentemente popolando come dire una specie di 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 epopea introducendo personaggi che poi ritroviamo continuamente tante scene come quella la citavo prima delle della predica agli uccelli ma ce ne sarebbero mille no? che poi ritroviamo negli affreschi ritroviamo nella cinematografia del novecento ritroviamo nei tanti romanzi anche che sono stati ispirati a francesco quindi è la nascita assistiamo un po' alla nascita di una di una epopea che è ricchissima e che poi sì noi l'abbiamo citata come fonte storica per i fatti di cui parla però è anche fonte storica per se stessa per le rappresentazioni per le proiezioni degli interessi dei lettori che hanno attraversato i secoli e quindi anche per questo è un materiale secondo me interessantissimo beh io credo che la cosa migliore sia quella di acquistare il suo saggio perché è materia davvero complessa sulla quale si sono soffermati un numero enorme di studiosi di agiografi anche per un problema di come dire veridicità delle fonti che si vanno a trattare quindi la cosa migliore da fare è comprare rotundi squadrata mutare questioni francescane dalle origini ai fumetti pubblicato da poco dal CISAM di Daniele Soldi che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite in questa videopresentazione che io ringrazio tantissimo grazie a voi e vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è italiamedievale.org dove insieme a questa videopresentazione troverete anche tutte quelle realizzate fino ad oggi grazie ancora a tutti e arrivederci a tutti Grazie a tutti.